Sapreste come aiutare i ragazzi di Club Udini? Dentro c'è un'altra cosa. Se questo è il tesoro abbiamo preso una fregatura. Non è il tesoro, è un altro indizio per riuscire a trovarlo. Significa che siamo sulla buona strada. E lo saremo di più se risolveremo questo enigma. I ragazzi hanno trovato una mappa del tesoro. E ora hanno trovato un pezzo di pergamena con questo simbolo disegnato. Hanno trovato anche un piccolo carillon. Come useranno questi oggetti per proseguire la ricerca? La caccia al tesoro continua! Scopri gli altri enigmi e non perdere un nuovo episodio di Club Udini ogni sabato alle 14.10 su Disney Channel.